Sei saldamente legato a Gesù? Gesù disse, io sono la vite, voi i tralci. Giovanni 15,5. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegate a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di lui, mantenere il tuo cuore aperto alla sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite. Diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice, che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite. A Gesù! Grazie di esistere. Eric Sellerie a Gesù! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!